Chi l'ha ridotta così non ama di certo le donne. La vittima ha dormito per almeno una ventina di ore. Preferisce farlo di notte. È ovvio che si tratta di un amante malato e perversi. Elena Magrini, 21 anni. I genitori ne hanno dichiarato la scomparsa questa notte. Ci stai dicendo che dobbiamo aspettarci un'altra vittima? Che altro possiamo fare? Aspettare che uccida anche questa ragazza? La Penser scrive un libro e l'assassino si ispira a quello per commettere i suoi omicidi ma poi cambia strategie. Perché? Che cosa lo spingi a fare? Monica Ivanovich, 21 anni. Padre di questo, madre italiana. Ispirato sempre a questo cazzo di libro. Ha studiato minuziosamente i gesti, le azioni. Un vero e proprio copione teafrale. È un borderline. Per come riduce le sue vittime, senza dubbio è un sadico torturatore. Se non lo fermiamo in tempo non credo che smetterà. Dobbiamo aspettare la prossima mossa. Chi dobbiamo cercare? Una persona apparentemente normale. Un'altra persona che si tratta. Oh, oh, oh.